A confrontarsi stavolta sono qui in studio Claudio Consolo, che si presenta candidato per il Movimento 5 Stelle. Le due o tre questioni più importanti del vostro impegno politico che volete sottolineare. Cominciamo da lei, Consolo. Io mi sono sempre occupato nella vita di diritto, come studioso di diritto, professore di università di materie giuridiche, anche come avvocato. E dal diritto il passo è stato però abbastanza naturale in questo frangente, in questo momento, verso la politica del diritto. E dalla politica del diritto probabilmente anche ad alcuni temi di politica to cure, di politica in generale. E quindi le questioni che maggiormente mi sembrano importanti in questo momento sono le questioni di una rinascita del buon diritto in Italia, che si è molto guastato sia nel campo della giustizia civile, sia nel campo della giustizia penale. Oggi, fra tante cose viste in televisione, per documentarmi, tante cose non piaciute, voglio dire massimamente non piaciute, ce n'è stata anche una che mi ha fatto una gran bella impressione, e vale a dire che forse avremo presto, a giorni, un nuovo regolamento carcerario. Ecco, è su questioni di questo tipo, tipo la catastrofe carceraria, tipo la class action, la tutela dei consumatori, anche con riguardo a quei cartelli che l'autority scopre, ma che poi non è in grado di rendere risarcibili, che effettivamente è nata l'idea di un impegno un po' più diretto. Bene, io ricordo che lei è uno dei candidati esterni, presentati come gruppo di super competenti da Di Maio e dal Movimento 5 Stelle, non le sarà sfuggito, insomma, in queste ultime settimane, dieci giorni, per i 5 Stelle si è parlato soprattutto per la vicenda dei rimborsi, insomma, le toccherà anche a lei dire qualcosa. Ma io, insomma, parto da una, forse significativa, dalla cosa che ha detto Buccarella, è uno dei quelli che sono in corsi in questa vicenda, dice, insomma, alla fine la realtà è che 3.000 euro al mese non ci bastano, ecco che, no, ha forse squarciato un velo un po' di ipocrisia, perché dice, chi fa questo lavoro, chi fa il lavoro è parlamentare, ha delle spese, insomma, e quindi... Beh, a me pare che su tutta questa, su tutta questa, adesso parlo anche magari di questo bisogno personale di avere qualcosina di più di taluni, ma mi pare che su tutta questa questione che si sta trascinando oltre misura e su cui il punto fondamentale è stato chiarito, ed è l'unico movimento che effettivamente dona, e va bene, lo sappiamo tutti, non è il caso di ripeterlo. Il punto fondamentale di tutta questa cosa è la proposta che è stata fatta proprio per cercare nella prossima legislatura di avere esperienze più trasparenti e più costruttive per tutti, vale a dire un consenso formale irrevocabile di tutte o di molte forze politiche sulla proposta che ha fatto effettivamente Luigi Di Maio, che lo stipendio del parlamentare sia fissato in una certa cifra, considerata ragionevole, potrebbe essere, che ne so, due volte, tre volte, quattro volte financo al massimo lo stipendio minimo che esiste nel nostro paese, oppure guardando alla media degli stipendi stranieri di Stati con lo stesso costo della vita, affinché non debba essere un'iniziativa come questa, lodevolissima, che poi ha avuto i suoi momenti, diciamo così, di crisi, di non perfetto rispetto, e questi ci dispiacciono moltissimo, ma un'iniziativa nel complesso lodevolissima a dover essere adottata unilateralmente laddove bisognerebbe avere una disciplina normativa uniforme e questo dovrebbe valere però anche per il rimborso delle spese elettorali perché il rimborso delle spese elettorali non dovrebbe esservi a questo punto per nessuno visto il referendum sul finanziamento pubblico dei partiti. Lei Elena Centero ha qualche cosa da dire sulla storia del Movimento 5 Stelle? Ma semplicemente che hanno sempre inneggiato alla onestà, 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 trasparenza hanno sempre osteggiato o comunque tacciato gli altri parlamentari, le altre forze politiche di poca trasparenza, in realtà quello che noi vediamo è che la mancanza di onestà e la poca trasparenza in realtà è proprio di alcuni membri di questo movimento. Devo dire una cosa che anche gli altri partiti, gli altri deputati utilizzano i soldi del rimborso per qualcosa di lodevole che è quello di aprire delle sedi sui territori dove si può essere in contatto e parlare con i cittadini e dove si dà lavoro a tante persone, a tanti giovani che sono appassionati di politica. Vuole replicare 30 secondi? 30 secondi. La parte relativa ai rimborsi delle spese politiche non è in discussione. Qui stiamo parlando dello stipendio che va direttamente, diciamo così, nel conto corrente personale del deputato per la sua sopravvivenza di vita, che deve esservi, è giusto, è costituzionalmente doveroso che vi sia una retribuzione per i parlamentari. Si tratta di sapere qual è la giusta misura. Su questo non capisco perché non possa convenirsi da parte di tutte le forze politiche serie. E quanto a onestà, 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 l'abbiamo sentito dire da Berlusconi e abbiamo anche sentito quello che poi è seguito. Se vincono i 5 Stelle vi mando una cartolina da molto, molto lontano. E io altro non ho da aggiungere. Lei, Consolo, che dice? Anche lei è certo che i 5 Stelle supereranno la soglia per poter governare da soli? La soglia del 40% o qualche minimo dubbio che arrivino al 40%? Meno male, qualcuno ha qualche dubbio perché la risposta che viene data ai dubbi sul dopo voto sono ma noi raggiungeremo il 99%. Come ha fatto Eleanor Centemar? Lei invece no? Ascolti, io non sono un esperto di queste cose. Veramente non voglio improvvisarmi per quello che non sono. Credo che ci sia ancora una percentuale di indecisi estremamente elevata e che dunque possono arrivare risultati molto migliori. Il fatto che la mia, diciamo così, compagna di questa sera, se così posso esprimermi, abbia detto che ci sono sempre delle sorprese nelle urne, vale a dire che nel caso del referendum effettivamente il risultato è stato quello che è stato, beh, un pochino mi stupisce perché la prima vera sorpresa quella volta è stato il fatto che Forza Italia, che aveva votato in Parlamento a favore di quella riforma costituzionale, poi dopo ha sollecitato invece il no. Beh, insomma, mi pare proprio di ricordare così, se no non sarebbe passata in Parlamento. Ad ogni buon conto, le sorprese nella vita sono ad ogni angolo di strada. È veramente molto drammatica la situazione che si profila comunque. Perché c'è l'incomunicabilità, l'impossibilità di convergere su singoli, semplici punti come quello di cui parlavo prima, di una equa retribuzione basata sulla media europea dei parlamenti nazionali, non dell'Europarlamento che ha peculiarità tutte sue. Questa situazione speriamo veramente che venga meno all'indomani dell'elezione, che si possa avere quella convergenza su un certo numero di punti programmatici senza la quale il ritorno alle elezioni, poi anche con la stessa legge elettorale, sarebbe un modo di stremare una creatura malata, che è il nostro povero paese, nei cui confronti dobbiamo avere tutti molti maggiori attenzioni. Allora, Roberto Arditti, a te la parola per una domanda, una questione da porre. Allora, comincerei dal professor Consolo. Il professore si candida per la prima volta, quindi non sarebbe neanche giusto, come dire, e chiamarlo a rispondere per il Movimento 5 Stelle, per quanto è accaduto sinora. Però le parole che lui ha usato poco fa su questa vicenda delle elargizioni al fondo per il microcredito mi porta a rivolgere di questa domanda. Il professore è un grande esperto di diritto, ha avuto incarichi accademici, istituzionali interessanti e segna anche il passaggio in qualche modo a una nuova fase del Movimento 5 Stelle. Professore, le chiedo questo. Lei è quindi convinto, io personalmente non la penso in questo modo, che questa idea di prendere una parte del Movimento 5 Stelle e darlo a un fondo è stata una buona idea. E insieme a questo le chiedo, sinceramente, per quello che ha potuto conoscere il Movimento a oggi, noi questo piccolo scandalo, piccolo grande, lo abbiamo scoperto per una inchiesta giornalistica. A suo avviso, il Movimento lo avrebbe scoperto anche da solo? Sì, prima o poi lo avrebbe scoperto anche da solo, io credo. Comunque c'è da essere grati alle inchieste giornalistiche. Tutte le serie inchieste giornalistiche sono benvenute. È stata o no una buona idea? Sì, credo nel complesso sia stata una buona idea. Perché ha dato un simbolo, ha dato, diciamo così, un segno, ha dato quella che in gergo, appunto, giuridico, lei è stata molto buona a ricordare i miei trascorsi giuridici, si chiamerebbe una caparra a tutto il Paese. Ha dato la sensazione che si possa effettivamente invertire la rotta e cambiare, tirando la cinghia organizzativa di questo Movimento 5 Stelle che appunto sta cambiando, che quindi non ha un gran personale, anzi, per quel che ho avviso ne ha veramente pochissimo, fatto di volontari, e quindi il fatto di non aver affatto tutti i check e tutti i controlli, va anche, diciamo così, relativizzato, molto relativizzato, e devo dire giustificato, alla luce di questa esigua strutturazione di personale e di organizzazione burocratica del Movimento, che peraltro vuole rimanere una cosa leggera e totalmente diversa dai partiti. Diciamo, visto che tutti sono concordi nel fatto che saranno gli indecisi a decidere, scusate, il bisticcio, le elezioni, Vi chiedo, anche a voi, come abbiamo fatto agli altri candidati, si sono presentati qui, la vostra idea è fortissima per convincere all'ultimo minuto gli indecisi. Forse anche guardare alla serietà dei comportamenti e alla coerenza delle proposte politiche. Io ho trovato alcune cose apprezzabili, in quanto ha detto poc'anzi la deputata uscente di Forza Italia, ma non vi era alcuna coincidenza con quanto ha sostenuto Berlusconi qualche giorno fa, tantomeno vi è coincidenza con quanto sostiene Salvini, con quanto sostengono Fratelli d'Italia. Ecco, non penso che sugli indecisi si debba cercare di far breccia attraverso questa completa divaricazione di diagnosi e di proposte. Da parte nostra il programma è un programma molto articolato, che non si può evidentemente illustrare in televisione in alcune di queste occasioni. Io avrei proprio la speranza, prima o poi, di poter parlare punto per punto in qualche sede e anche di confrontarmi con chi nel mio collegio in qualche modo è la mia antagonista, la mia antagonista dialettica, ma dal punto di vista delle proposte importanti... Che sarebbe Mabonino. Che è Mabonino, sì. Ha una bella sfida. Ha una persona di grande rispetto, evidentemente. Ha una bella sfida. Certamente, infatti ne sono proprio onorato. Mi pare che però la cosa più importante sia il programma mira a cercare di elevare il benessere degli italiani. Il benessere degli italiani, non solo per ragioni economiche, è molto sceso negli ultimi anni. Vi è sostanzialmente un dato anche, diciamo così, di animo. Di animo che si viene in qualche modo sciogliendo, che si viene in qualche modo ammareggiando. Tutti siamo in realtà, tutti, molte persone responsabili, sono in realtà molto, molto, molto tristi. Quindi i vari punti di quel programma devono essere esaminati in quest'ottica, compresi i punti che a prima vista possono suscitare in alcune e alcune perplessità. Possono essere però tutti molto ben chiariti, a cominciare dal reddito di cittadinanza, nell'ottica del benessere degli italiani, anche degli italiani agiati.